4-6-12.000 sono i numeri magici del primo pomeriggio stagionale trascorso dal Bari al San Nicola. 4 i gol rifilati alla San Cataldese realtà calcistica siciliana della provincia di Caltanisetta. 6 i punti collezionati nelle prime due giornate del campionato che valgono il primato a punteggio pieno in classifica in tutta solitudine nel girone I. 12.000 gli spettatori presenti sugli spalti, numeri che c'entrano ben poco, anzi 0 per questa categoria. Finale 4-1, vittoria sacrosanta, punteggio forse in generoso per la volenterosa formazione ospite, capace di reggere l'onda d'urto di Biancorossi per oltre mezz'ora. Poi si scatena il Bari, si scatena in particolar modo Neglia che nelle vicinanze della linea di fondo realizza il gol del vantaggio e in seguito raddoppia con un destro a giro concludendo al meglio un'azione di Floriano. E' proprio quest'ultimo a firmare il tris in apertura di ripresa su pregevole Assis di Langella. Lo show biancorosso viene momentaneamente interrotto da rigore trasformato da Ficarrotta per la San Cataldese, ma riprende nel finale quando il mio entrato Piovanello completa il poker per gli uomini di Gianni Cornacchini. La realtà è che no, si parla che noi si deve vincere assolutamente e probabilmente è così, ma che non si soffra è quasi impossibile. E il pubblico penso abbia capito questo, cioè che anche nelle difficoltà, di solito quando tu parti e dicono che il Bari deve vincere il campionato, prima difficoltà cominciano i fischi. Mi sembra che qui non sia stato così, vuol dire che è un pubblico maturo che ci dà la possibilità di crescere, speriamo. È una bella emozione, ma soprattutto è bello quando con questo lavoro, questa passione, questo sport riesci a regalare entusiasmo e felicità a tutte queste persone che sono venute appositamente per il Bari e per noi. Bari vince, Bari diverte, dunque Bari non è un mistero, può contare su un pubblico di ben altra categoria. Rispetto alle rivali del Gironei, un raggruppamento in cui sono bastati 180 minuti ai biancorossi per diventare padroni, Bari comanda, le altre inseguono. Sarà questo, salvo clamorosi colpi di scena, il copione sino al termine della stagione. E domani c'è anche l'esordio in Coppa Italia di Serie D, Stadio San Nicola, ore 20 e 30, arriva il Bitonto per la gara secca del turno preliminare. Chi vince affronta poi l'Altamura ed eventualmente al secondo turno il Cerignola. I biancorossi non lasceranno nulla al caso, vorranno essere protagonisti anche in questa competizione.